Concluse le formalità di rito e quindi un grazie sentito va ai progettisti, agli uffici, all'impresa che stavano prestati a mettere il cantiere, partono finalmente i lavori di Porta Romana, un cantiere simbolo della nostra città, un cantiere che la città attendeva la porta all'ingresso principale della nostra comunità. Ecco, è una giornata certamente particolare per noi, di grande gioia, di grande festa ed è una giornata in cui in altre realtà della nostra regione, a Pianantonio, a Montecorona, a Santo Alfeo, le comuni di Inverti e di Perugia, ci sono comunità che invece stanno attraversando le terribili giornate che noi abbiamo avuto agli indomani degli eventi del 2016. Ecco, noi vorremmo che da Norcia partisse per voi questo segnale di fiducia, di speranza nel futuro, nelle istituzioni, perché così come ce la stiamo facendo noi sarà possibile farcela anche per voi. Ci vorrà tempo, ci vorrà sacrificio, ci vorrà pazienza, ma non dovete le mordere, non dovete mai abbandonare. Ogni giorno la fiducia e la speranza vanno costruite, ogni giorno un mattoncino va apposto su quel muro. Sono assolutamente certo che come noi, anche voi ce la potrete fare, come noi, anche voi siete delle popolazioni forti, dovrete essere coesi, dovrete affrontare insieme, insieme alle vostre amministrazioni questi momenti.